Ciao ragazzi e ciao ragazzi, oggi nuovo video! Fatemi sapere se vi piace questa nuova appostazione davanti alla mia toiletta che tra l'altro devo ancora sistemare, devo metterci tutti i trucchi magari poi farò il video della mia appostazione trucco e comunque è quella che vi ho mostrato nel video dei regali di Natale che mi ha regalato il mio amore, è troppo carina, l'adoro comunque ragazzi iniziamo subito, voglio far vedere tutti gli acquisti che ho fatto a Barcellona e le cose che ho comprato anche con i saldi, insomma un po' un video ha-hul, ha-hul, come dico io prima di iniziare vi volevo dire che la collanina è la mia, Carlita Jewelry quella con le tre stelline che trovate su caritashop.com a proposito del sito, ci sono i saldi, quindi venite a vedere, ci sono tante cose scontate e invece sulla labbra ho la mia amata tinta labbra Grandi Amore anche questa la trovate su un shop e prima ancora di iniziare volevo ringraziare Carla che è una mia amica che mi ha regalato questa la faccio vedere negli acquisti, anche se non l'ho comprata io ma è un regalo è una cosa che volevo da un sacco di tempo un portacellulare troppo troppo carino e lei sa che mi ha fatto tanto contenta, quindi grazie Carla alla Nike ho comprato, vabbè questo non è alla Nike ma sapete che l'ho comprato là perché avevo freddo ed è un po' un poncio, un poncio l'ho letto un po' nei vostri commenti mi pare che avevo sbagliato a pronunciare quindi correggetemi, ditemi voi come ci dice esattamente è comunque molto carino, è del di lana ed è praticamente c'ha le palline sotto è troppo carino, poi un bel colore quindi mi piace tantissimo l'ho pagato pochissimo, tipo 15 euro quindi mi è piaciuto molto poi dalla Nike queste cose ve le avevo mostrate anche nel vlog la ferpetta, troppo carina non vedo l'ora di indossare queste cose ancora non ho tolto i cartellini la magliettina e questo completo ha riscosso un grandissimo successo pantalone più maglietta raga, è troppo bello mi avete chiesto se è troppo stretto il pantalone, se è scomodo no ragazzi è comodissimo e infatti anche per questo l'ho preso è il top laminato sempre della Nike è troppo bello poi vi faccio vedere cosa ho preso qua è la busta della Nike ma in realtà non è Nike ma sono cose sparse ad esempio da H&M perché poi alla fine le buste le abbiamo buttate perché abbiamo dovuto riempire tutto nelle valigie abbiamo dovuto mettere tutto in valigia allora questo vestitino è troppo carino anche questo mi avete visto indossato in qualche vlog e forse qualche story Instagram qualche foto Instagram è troppo carino è di H&M è praticamente molto semplice di questi avvitati e un po' larghi sotto io le adoro questi modelli e dietro porta questa particolarità di avere uno scollo appunto dietro e invece davanti è così è troppo carino io ho preso una spesso mi chiedete anche la taglia io ho preso una 34 europea dovrebbe essere amore 34 europea quanto è? amore 34 europea quanto è? 34 europea quanto è? più 14 più 14 quindi una 40 no 34 più 14 ok 50 vabbè questo è invece un giacchettino sempre di H&M è troppo carino è di un rosa delicatissimo bellino molto molto un rossino molto carino è tutto peluscioso infatti c'era anche nero io l'ho provato e mi ha dato tipo elettricità comunque non lo sopportavo stranamente rosa invece non mi fa questo questo problema non prude non mi dà elettricità è super che bello è peluscioso è troppo bello e questi sono molto utili quando vuoi stare carina però comunque è freddo quindi magari metti un vestitino tipo quello e poi ti metti il cardigan sopra piccolo trucchetto poi ragazzi qua ci sono tutte le cose che sapete che mi ha regalato Dario avete visto la sorpresa che mi ha fatto quando siamo andati lì e allora praticamente questo qua è un cuore ma non so che è un cuore dentro mi ha messo tutti i cioccolatini quella dell'albergo è troppo bello questo cuore e poi questo qua che lo devo appendere penso in cameretta che bello bellissime queste cose poi ragazzi sempre a Barcellona ho preso queste pantofoline che sono troppo belle secondo me sono a unicorno sono troppo carine e queste le ho prese in un negozio che sta a Barcellona non l'ho mai visto in Italia aveva un nome preciso questo negozio si chiama Blue oh mio dio non mi ricordo comunque non è un negozio che aveva tutte cose sfiziose e appunto ho preso queste pantofoline unicorno troppo carine le adoro pagate anche queste poco sui 10 euro più o meno poi ragazzi questo bello l'ho fatto alla Levis e ho preso queste cose allora questa è la scu... ah prima questo qua vi devo farvi vedere questo è un cappello che ho preso da Bluff si chiama Bluff Bluff proprio scritto si chiama Bluff la marca questo proprio Bluff è proprio una cosa che c'è comunque a Barcellona io non l'ho mai vista in Italia non lo so comunque sono abbastanza cari questi cappelli costano proprio un botto però sono fatti bene infatti c'è la targhetta davanti Bluff hanno la pallina poi questo è laminato e dentro è caldissimo e questo praticamente costava un botto scontato l'ho pagato sui 30-35 euro ma vi giuro sono proprio cari cari questi cappelli però sono belli sono molto belli caldi poi questo qua mi è piaciuto anche a dare è piaciuto perché c'è la pallina che si intona comunque al colore dei miei capelli eccetera quindi l'ho comprato fatemi sapere se vi piace poi l'acquisto bello l'ho fatto da Levis e ho preso alcune cose spuntate ad esempio questo cardigan l'ho pagato al 50% è stato proprio un affare perché praticamente invece di 140 euro l'ho pagato 70 euro quindi proprio la metà ed è molto bello il cardigan di lana caldissimo mi piace proprio tanto e c'ha la cerniera è molto semplice insomma però comunque mi piace perché io indosso spesso leggings magari con una maglietta un po' leggera mi metto questo sopra ve lo posso lasciare ho aperto ho chiuso c'ha la cerniera quindi la cosa particolare è la cerniera non ha i bottoni e c'ha anche le tasche quindi è proprio bello questo mi è piaciuto tantissimo poi mi sono presa un jeans che desiravo un sacco avere un jeans di levis e praticamente mi sono presa questo modello che è slim e l'ho pagato 77 euro invece di 110 euro quindi anche questo scontatissimo coi saldi e mi è piaciuto un sacco questo si chiama my like super skinny quindi è super stritto ed è un blu scuro vi giuro che lo metterò indosso non lo toglierò mai più perché lo amo giù scende dritto è super stretto ed è a vita alta che io adoro è jeans a vita alta con dei becardi da sopra quindi non vedo l'ora di indossarlo e poi infine ho preso questa felpetta sempre da Levis questa però non era scontata perché era comunque la nuova collezione l'ho pagata 65 euro e di questa ho preso una small perché non c'era la X small però comunque mi va bene perché un modello non tanto lungo è comunque larga è comoda c'è questa scritta dorata sopra vi piace? adoro ti piacciono i miei acquisti fai vedere anche le tue scarpe allora mi amore ha preso queste scarpe che me le comprerò anche io da Nike sono quelle dorate a voi piacciono ragazze? sono sia dorate che argentate sì vabbè ma io voglio consigliare ragazzi se secondo loro vanno bene per me ma sberti già la conoscono ciao ragazzi ciao e quindi vabbè comunque le voglio anche io amore ma non è che mi vanno queste che numero sono tipo 50 che numero sono c'è anche questo amore che numero sono queste 45 e mezzo vabbè Gigi mi vanno sicuramente falta l'ora della Nike ah bello bravo va bene di tutta io comunque voglio queste scarpe che dite ragazzi per femminucce vanno bene non so se no a massimo le tue c'hanno due piedi quindi questo è tutto ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un bel like vi amo tanto tantissimo e vi mando un bacio grande ciao 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 Grazie a tutti.